Benvenuti ragazzi sul canale Gaming Now Continuiamo il gameplay di Gears of War Judgment Allora, siamo nei sotterranei Ornisce il supporto alle guardie Onix fuori dal museo Ok La squadra Chilosos chiede che la polvere degli archivi aveva limitato l'efficacia in battaglia Visibilità ridotta dalla polvere Addirittura Mi è Ora puoi accumulare stelle e bevi freddo La polvere rendeva la situazione difficile I vermici stavano addosso In poche parole era un inquire Non si vede un cazzo Dai, fatti saluti Dai, fatti saluti Nono via È ancora qui Fatti saluti Scusati Scusati Bene Per homeless Una bella combo di uccisione instantane Inizioni Onix Dai, fatti sotto Oh, non sei un cazzo Sei ricco di un ucciso sparare Lascio una granata Oh, non sei un cazzo Oh, non sei un cazzo Oh, non sei un cazzo Non mi toglierò, non mi toglierò. Non mi toglierò, non mi toglierò, non mi toglierò. Non mi toglierò, non mi toglierò. Lancer retro Questa tipo di arma è stata introdotta in Mirrors of War 3 Sembra un lancer ma no La polvere rendeva la situazione difficile E i veri ci stavano addosso In poche parole era un incubo Questa è una granata Mi serve una mano Pezzo di merda Guarda un po' che c'è qua Ok ne arrivano altri Non me ne dimenticherai Oh cazzo Hai fermato l'emorragia Dai fatti so Nemici avvistati Proprio è un problema Questa volta Sì Oh cazzo Oh cazzo Non 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 cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io lo accomando. Passatevi l'umis. Che succede, tenente? Colonnello, un verme su un... su un mostro ha appena eliminato tutte le forze nel museo. Richiedo istruzioni. Uccidete il verme. Difendete il museo. Colonnello, sono Paduk. Questo verme a Goraznia lo chiamavano Karn. Qui non siamo a Goraznia. L'abbiamo colpito con tutte le forze. Colonnello, che ne dici del missile Lightmas? Cadetto, lascia la strategia agli ufficiali. Non voglio più sentirmi prima che lo spauracchio di Paduk sia stato ucciso. Mamma mia. Allora? Come funziona quel missile? È un'arma segreta. Ma ce n'è uno ad Arvo. Il suo inventore insegna all'Accademia. Sì, il professor Elliot. Ho lavorato con lui alla Croix prima che passasse dai militari. Il missile trae energia dall'emulsion raffinato. Più emulsion c'è, più grosso è il botto. Ah, ecco cosa fa il vostro botto. Dio. Eri distante dal punto d'impatto? Abbastanza. Quella cosa ha distrutto l'intera città. Questo è a bassa potenza. Dopo il martello dell'Alba, Elliot non ci ha più lavorato. Passa quanto? Bail, tenente. Per lanciare quel missile servono il radiofaro di puntamento e i codici di lancio. Poi bisogna attivare il missile e ottenere l'autorizzazione del comando. Comando, qui Kilo. È nostra intenzione attivare il missile Lightmass per uccidere il generale Karn. Qualche obiezione? Per me sta bene. Forza cadetto, stai per tornare all'Accademia. Ed è un ordine. Bene. Quindi non disobbediamo agli Orphor. Forse è per questo che ci hanno arrestati poi, dai, infatti. Cadetto Hendrick. Sono curioso di sapere che cosa ha convinto una guardia Onyx a rubare una delle armi più potenti dei C.O.G. Io non ero d'accordo. Ma certo. Curri da papà. Potresti mostrare rispetto per me e per l'esercito nel quale ti sei arruolato. L'ho fatto. E guarda cosa mi è successo. Cadetto. Colonnello. Sono un cadetto dell'Accademia. Dovevo sapere se gli altri stavano bene. Accademia Mill di Halbubate. Stimonianza di Sofia. Abbiamo usato le fogne per spostarci dal museo all'Accademia. Non facevo che pensare i miei compagni cadetti. Enfield Bridge. Speravo avessero resistito. Quindi adesso siamo... Ah, quindi praticamente stiamo vivendo i ricordi di ognuno, della squadra. Prima abbiamo vissuto i ricordi di Bird, ora di Incore, di Sofia. Comunque la grafica è... E' ottima, devo dire. Cioè proprio i dettagli anche e soprattutto sono resi nei minimi particolari. La luminosità soprattutto è... E' buona. Mi piace assolutamente come grafica questo videogioco. I morti l'hanno criticato, questo dir sovorgiatment. Però vabbè, forse la storia non è proprio studiata al massimo, però comunque non è male. Come grafica soprattutto. E poi soprattutto finalmente, ma... Il videogioco... L'accademia era caduta, ma il radiofaro nel laboratorio del professor Elliot ci avrebbe permesso di spedire il missile Lightmass addosso a Karn. In un videogioco di Christ of War, per la prima volta impersoniamo un personaggio femminile. Aggiungi l'ingresso dell'accademia. Allora, dobbiamo raggiungere l'accademia per recuperare questo sistema di lancio. Qualsiasi cosa sia accaduta qui. I cadetti hanno lottato con onore. Non c'è vergogna nel subire una sconfitta. Io lo so. Non c'è vergogna nel subire una sconfitta. E' ancora finito. Rianimami 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 No vediamo la piede Via, via Attenzione Sul lato, river in arrivo Tu sei lo sai La torretta Cazzo river Oh cavolo Nemici avvistati Nemici avvistati Damm Cazzo venere Viam Rianimami Rianimami Viam Annimami I got it I can´t go Rianimami in questo capitolo di ambiente sono abbastanza abbastanza stressata lo ha Alcune di Utrez, non è giù Dottor Badu, assarbataggio Stanno sparando Dai, fatti su È il momento di entrare, no? Sì, troviamo il radiofaro del missile Lightmas e poi ce ne andiamo da qui Qualche amnizio Presi Ok, abbiamo trovato una bella pacchetto di munizioni Allora, dobbiamo entrare all'interno dell'accademia I miei compagni cadetti Erano il meglio che il COG avesse a disposizione La nuova generazione di ufficiali Khan li ha sterminati senza chitarre Khan E se anche il laboratorio è distrutto? Portile Non può esserlo, il radiofaro ci serve Prova il laboratorio del professor Eriot Khan dovrebbe essere il generale delle locuste che abbiamo incontrato prima Era in sella di quel mostro grossissimo Il cadetto Henrik sostiene che il sistema di difesa dell'accademia Si era attivato durante l'attacco delle locuste Finisci prima che si sprigioni il gas venenoso in 4 minuti Fallisci e morirai Noi cadetti avevamo sentito parlare della macchina del giudizio installata da un vecchio direttore Per far fronte alla caduta dell'accademia Non credevo esistesse davvero Mi sbagliavo Si era attivata e noi dovevamo muoverci in fretta Non credo Non credo Non credo Non credo Non credo Che Non credo Oh Grazie a tutti. Non me ne dimenticherai. Sì, aiuto. Non mi dimenticherai. Sì, aiuto. Non mi trova oltre quella porta. Questo che è ovvio. Cos'è sta roba a fare? Che cazzo di locusta è? Mamma mia. Ma questa è... È una locusta nuova. Si ti fanno capire quando si arrabbiano. Niente paura. Un colpo alla testa dovrebbe passare a calmarli. Non mi raffa? Quinti. Non mi raffa? Avivare. Quinti. Quinti. Questo è un calmo. Quinti. Sì, tanto che il tempo sta passando Perfetto Abbiamo ottenuto Abbiamo ottenuto tutte quante le stelle del vivendo E entriamo all'interno della quarta Prima di entrare nel laboratorio dovevamo eliminare la sicurezza Ero ancora nel sistema Sezione 3, laboratorio La squadra chi lo sostiene che un basto al sistema antincendio Aveva ridotto l'efficacia in battaglia Visuale ostacolata da fumi tossici Qualcosa ha fatto scattare il sistema antincendio del laboratorio Respirando quell'aerosol non saremmo riusciti neppure a reggere in mano le armi Figuriamoci a combattere Ma c'era la polvere Adesso qua abbiamo la risolta Abbiamo il gas Dobbiamo volare Abbiamo il gaspito Abbiamo il gaspito Ma andiamo più poco Oggi non si parla di gioieri Fai una cosa? Puoi tornare a KAD Arribano altri Granata a inchiostro Contiene un veleno potentissimo Granata a inchiostro Granata 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 Mosca Pre 청utar Ne avevo bisogno Lεν Grazie Grazie Torna a combattere Volete la luce Va di terra Vieni la famiglia a me Il laboratorio ha cambiato dalla mia ultima visita Hai lavorato qui? Ho aiutato a sviluppare delle armi prototipo Il professore Elliot aveva una cotta per me Oh, ok Era questo qui, il professore Elliot Vabbè, comunque Questo laboratorio qui era davvero un disastro Cioè, è davvero un disastro Davvero devo dire che in questo nuovo Kirs of War Le immagini sembrano molto più nitide Rispetto ai passati Kirs of War Forse già un accenno c'era in Kirs of War 3 Comunque veramente immagini molto più chiare e nitide Quindi questo Questo mi piace davvero tanto Tanto qua scienziati morti un po' ovunque Credo che ci siamo Sì Ma qua è bloccato Ma c'è sonneggiato Bravo, con Ho sbloccato qualcosa Oh, guarda chi c'è Jack No, non ci credo Jack Non si muove È ancora bloccato Dovrebbe esserci un comando qui vicino Il caro robottino che ci ha accompagnato in tutti i Kirs of War Che può fare qualsiasi cosa Questo è il primo incontro di Jack E là Cosa? Uno scherzo Quello è il radio faro Queste unità sono robuste, resistenti e sinimetizza Sarà perfetto Non dovrebbe mimetizzarsi Non può farlo nell'Accademia Sistemi antimimetici Dovremmo scortarlo fuori Bot, ci puoi portare fuori da qui Fuggi dall'Accademia Perfetto Stelle totali 26 Abbiamo 26 stelle fino adesso Raccolte Uccisioni 3 Sono 13 uccisioni Da lì abbiamo seguito il bot fino a uscire dal campus Proteggendolo da ogni attacco Monroe Commons Va bene ragazzi Dai il video finisce qui Commentate Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo gameplay 2 Ciao Passi Sto